Musica Ciao a tutti ragazzi e bentornati finalmente sul mio canale Io sono Diego e sono qui oggi per portarvi un tutorial veramente molto interessante Nonché veramente bello da portarvi Per il semplice fatto che mi rende felice Mi rende felice per una cosa abbastanza patriottica No ma pure quello però comunque dopo vi spiego la motivazione Fatto che oggi sono qui per spiegarvi come tradurre Sony Vegas Pro 15 in italiano Per la prima volta dopo 15 versioni di questo programma che penso siano uscite in 15 anni diversi Quindi dopo 15 anni avremo una versione italiana del nostro software di video editing preferito Almeno nel mio caso Che dire vi spiego un attimo la storia com'è nata Un mio iscritto di cui non mi ricordo il nome per un attimo ma con i nomi sono un disastro Mi ha detto ciao Diego 6 che è uscito una versione in italiano del software Sony Vegas Pro 15 Diciamo che all'inizio non ci credevo molto per il semplice fatto che io lo conosco ben da 4 anni Anzi forse da 5 questo software Ovvero dalla versione 10 E io per imparare un pochino a montare i video Ci smattavo Ci smattavo perché non riuscivo a trovare una versione italiana di un software così famoso Infatti mi arrabbiavo tantissimo Per il semplice fatto che non conoscevo benissimo l'inglese Anzi non lo conoscevo E adesso neanche lo conosco benissimo Ma comunque già mai io di prima non lo conoscevo Non avevo mai visto un programma di video editing E quindi non sapevo proprio dove appoggiarmi per poter imparare Per fortuna adesso non ho più bisogno di questa traduzione Per il fatto che comunque col tempo uno un pochino impara A aggiustarsi su dei software del genere Soprattutto se conosce un pochino Vari software di video editing in generale Io le ho provate un pochino tutti Quindi le funzioni più o meno sono quelle Chi ne ha di più chi ne ha di meno comunque sono quelle Quindi alla fine uno impara Ma che per chi ha le prime armi comunque E soprattutto non parla e non è la lingua principale In cui parla quella del software Sa benissimo che non è molto facile approcciare e iniziare Quindi veramente ero un po' dispiaciuto al tempo E quindi quando ho detto questo commento Diciamo che ero un po' felice Ma non ero sicuro della traduzione originale Fatto sta che sono andato subito sul sito di Sony Vegas Pro 15 L'ho scaricato e ho visto che comunque la traduzione Non era contenuta nel setup E allora mi sono un pochino formato online E ho trovato il video di questo ragazzo italiano Che ha creato una traduzione da zero Da solo E questa è la cosa che vi rendevo Che vi dicevo Mi ha reso felice per il semplice fatto Che non capita quasi mai Che qualcuno si impegna per pubblicare qualcosa Che serve a tutti E che non era mai stato fatto prima Quindi devo dire Sono veramente molto felice per questo Comunque non ho chiesto il consenso al ragazzo E spero che nel caso vedesse questo video Me lo passasse ecco Però comunque oggi sono qui per spiegarvi Come tradurre questo programma Tramite il video di questo ragazzo Tramite i file di questo ragazzo Comunque qua sotto ci sta il suo canale Il suo video E i suoi file Che ho deciso di non ricaricare Andiamo a vedere come tradurlo Vi dico subito che la traduzione non è completa Per il semplice Oggi la quarta volta che dico per il semplice fatto Ma alcune volte io mi intacco con queste parole Comunque Per la motivazione che è un video È un software scusatemi Con veramente tantissimi testi E scritte Quindi tradurlo da solo In meno di un mese e mezzo Ovvero l'uscita di questo Di questa traduzione è veramente impossibile Quindi vi consiglio di andare a iscriversi al suo canale A iscrivervi più che altro al suo canale E a lasciare un bel mi piace Magari anche un commento di sprono In modo tale da poterlo spronare Ecco A portare una traduzione più completa Ma comunque vi invito a scaricarla Perché le cose più importanti sono state tradotte Fatto sai ragazzi che andiamo a vedere come si fa Sono qua mi perdo troppo in chiacchiere Rediciamoci nei primi due link Che troverete qua sotto nella descrizione Che sono due link caricati da questo ragazzo I link sono i suoi Come ho già detto Lascialo tutto quanto com'è Il primo è Vegas Pro 15 Ita Patch E la seconda è Vegas Pro 15 Ita Patch Restore Questo perché nel caso alla fine Non vi piacesse la traduzione Potete andarla a rimuovere Con il secondo software che vi ristorerà Vi riporterà la versione in inglese Originale Andiamo quindi a scaricarle tutte e due Con il tasto rosso Quindi scarica e scarica Aspettiamo un attimo che avvenga il download Sono veramente molto molto leggere Quindi non ci metterà tanto tempo Salviamole tutte quante La 1 e la seconda appena finirà di scaricarla Adesso potremo chiudere Salva Ok a questo punto dovremo ricarci nella cartella Download del nostro computer E facendo così dovremo poter trovare Le due patch I due file Eccoli qua Fatti da ragazzo A questo punto avremo Il primo e il secondo Come vedete Sono due file Come ho già detto Uno è la patch E l'altro il restore Quindi potremo tenerli A questo punto dovremo ricarci Nell'esplorare i source E quindi andare nella cartella Del programma Quindi se non la troviamo Se non la sappiamo a memoria Basterà cercare qua Vegas Pro Fare tasso a destra Apri percorso file Tasso a destra Apri percorso file Così facendo avremo quindi Più che altro Il posto in cui si trova il nostro programma In cui è stato installato Dovremmo copiarci qua Questa Questa stringa qui Dovremmo copiare Perfetto CTRL C Mi raccomando Solamente questa qua Evidenziata Facciamo quindi su X Richiamoci con un doppio clic Sul software Per l'installazione Della lingua italiana Mettiamo quindi Italiano Ah Per chi solo chiedesse Per chi volesse Vedere Per chi non ci crede Il mio software In inglese a tutti gli effetti Come vedete In inglese qua In inglese qua sopra Tutto quanto in inglese Quindi Vi farò vedere Che la traduzione funziona Andiamo quindi poi su italiano Andiamo su ok Andiamo su avanti E qua dovremo incollare Il link Come vedete è uguale Ma non è detto che sia così Per tutti quanti voi Quindi andiamo su avanti E facciamo su fine A questo punto avremo finito Come ho detto È veramente molto rapido Il procedimento Perché non pesa nulla E adesso basterà fare Un doppio clic O un clic solamente Sul nostro programma E dovremo aspettare Il suo avvio Come vedete Ve l'ha scritto Translated by N.Fritz Nazz Che dovrebbe essere il suo nome Comunque il canale Trove qua sotto in descrizione E come vedete Qua in alto Troverete la traduzione Come ho detto Non ha tradotto tutto Infatti queste parti qua Non sono tradotte Ma queste sono le meno importanti E le più facili da capire Quindi Non c'è bisogno Di una grossa traduzione Ha tradotto Tutte quante le parti Per adesso Dell'interfaccia Quelle principali Quelle che ci permettono Di andare a modificare L'interfaccia Di andare ad aprire Gli effetti Quindi ha fatto Veramente un ottimo lavoro Perché comunque ragazzi A voi sembra poco Ma tradurre tutto ciò Non è affatto facile Quindi Per adesso Solamente questo Ma io direi Non è solamente Ma comunque Se volete Che lui vada avanti Fatevi vedere Che a voi vi interessa E che magari Gli date un sostegno Perché è veramente importante Che Un ragazzo Italiano Soprattutto faccia un lavoro Del genere Che non è stato fatto Dalla casa madre Che diciamo Non è niente di poco Rilevante Ecco Se volete donarvi Potete farlo tramite Questo pulsante E che ti ragazzi Io spero che Questo tutorial Avesse servito Lo ringrazio Veramente moltissimo Per questa traduzione Che andrò a utilizzare A questo punto Nel caso Non la voleste più Perché potrebbe presentare Qualche bug Non essendo ufficiale Puoi andare a rimuovere Il tutto Utilizzando questo setup Qui che però A me non interesserà Perché ho deciso Di mantenerla Che dire Ringrazio ancora lui Qua sotto Guardate tutti i link Per andare sul suo canale E ringraziarlo Spero che questo tutorial Vi sia piaciuto Per un attimo Per la intro Lunghissima Lasciate un bel mi piace Seguitemi su telegram E su instagram E ragazzi Di anche tutto Noi ci vediamo alla prossima Ciao belli